Il beneficio che il Paese riceve dall'impegno delle donne ha una straordinaria portata, lo sottolinea il Presidente Mattarella ricevendo al Quirinale le vincitrici del premio Marisa Bellisario, donne ad alta quota. L'impegno femminile nei diversi campi non è mai distinto, ha detto il Capo dello Stato, dall'importanza di sentirsi parte di una comunità di vita per il nostro Paese.